Settima corsa premio Jeff Spice, la prova principale del convegno di oggi, un doppio chilometro per i quattro anni, sette i cavalli al via tutti in prima fila, con l'uno turno di Azzurra Federico Esposito, il due Tempesta Mark Davide Cuglini, il tre Tuzzi Font Raffaele Forino, il quattro Taylor Rock Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, il cinque Turbo di Azzurra Antonio Di Nardo, il sei Tenchile S.M. Dario Battistini, il sette Tale Inno Enrico Bellei. Con cautela nel lancio il quattro di Taylor Rock, partono forte i concorrenti all'esterno, in particolare Turbo di Azzurra e Tale Inno, che cercano di emergere nei confronti di turno di Azzurra alla corda. Insiste Tale Inno e riesce a passare di forza nei confronti di Turbo di Azzurra, al quale è rientrato turno di Azzurra mantenendo la scia di Tale Inno. All'esterno c'è Tuzzi Font che precede Tempesta Mark, poi ancora Tenchile S.M. in coda a Taylor Rock, che era partito con prudenza. Dopo aver colto avvio perfetto dall'esterno, ora Enrico Bellei cerca di ridurre il ritmo in Salchia Tale Inno, che comunque ha trottato il quarto iniziale in poco più di 28,5. E ora i 600 sono in 44,3, quindi andatura più che discreta da parte di Tale Inno, che ha seguito da turno di Azzurra all'esterno Tuzzi Font, la scia della quale è stata presa da Turbo di Azzurra, che ha spostato dalla corda in anticipo su Taylor Rock. All'interno rimangono invece Tempesta Mark e in coda a Tenchile S.M. Gruppo piuttosto compatto al passaggio davanti alle tribune, nuova accelerazione di Tale Inno per replicare a Tuzzi Font e chilometro che va via nell'ordine dell'1,15,5 per il leader Tale Inno. All'esterno Tuzzi Font lungo la corda a turno di Azzurra, poi ancora Tempesta Mark che ha in fuori Turbo di Azzurra. Ultima pariglia composta da Tenchile S.M. e Taylor Rock con Tale Inno che cerca ora anche di portare il cronometro dalla sua parte. Quando mancano 650 metri al traguardo Tuzzi Font è sempre al salchi del leader, turno di Azzurra che non ha ancora trovato da correre, poi Turbo di Azzurra, Tempesta Mark, Taylor Rock e Tenchile S.M. Ancora gruppo compatto all'attacco della curva finale. Andiamo a vedere il parziale per i primi 1600 metri da parte di Tale Inno. Sono in 1,59,8. La mossa in terza ruota di Turbo di Azzurra che si trascina a Taylor Rock. Tale Inno che cerca ancora di non dare spazio a turno di Azzurra che è nella sua CIA. A centropista si lancia Turbo di Azzurra con Turno di Azzurra che ora è il varco per scattare all'interno di Turbo di Azzurra e di Taylor Rock. Si arrende Tale Inno, passa Turno di Azzurra chiaramente su Turbo di Azzurra, poi Taylor Rock nel finale stacca Turno di Azzurra che appena ha visto la luce è scattato con azione superiore. Per imporsi davanti a Turbo di Azzurra che probabilmente sfugge a Taylor Rock per il posto d'onore. E dunque 1 e poi 4,5 probabilmente sul mio cronometro 2,28 e 2 per gli ultimi 2000 metri di gara. Media probabilmente che scenderà leggermente al di sotto dell'1,14 per Turno di Azzurra e Federico Esposito per il training di Eric Bondo. Mentre per il posto d'onore Turbo di Azzurra viene apparigliato completamente da Taylor Rock per il posto d'onore.